buongiorno a tutti allora anzi dovrei dire buonanotte vista l'ora sono le due praticamente comunque ho visto le prove del gran premio di singapore di formula 1 quindi vado a raccontarvi quello che è successo ma prima vi ricordo sempre l'appuntamento si fa per dire con la diretta del gigione lunedì sera dopo le 21 e 30 ormai lo sapete è la terza che faccio quindi anche quel prossimo lunedì 23 settembre sarà online dalle 21 e 30 in poi se c'è qualcuno resto online fino magari anche alle 3 come è successo lo scorso lunedì se non c'è nessuno parlerò di un po' di argomenti che riguardano appunto quello che è successo nel weekend visto che comunque non abbiamo posticipi del lunedì e quindi parlerò del campionato e di varie cose detto questo andiamo a vedere quello che è successo al gran premio di singapore formula 1 e le qualifiche quindi partiamo dal q1 e c'è subito da notare che le due mercedes usano subito le uniche gomme gialle a disposizione probabilmente puntano usare rossa e bianca in gara dopo i primi due giri lanciati da segnalare come sempre che i cinque migliori nei primi posti sono sempre i soliti quindi le due mercedes le due ferrari e la rebu direbbe staffen poi indietro ci sono science sesto gasli settimo e il pilota spagnolo tra l'altro inizialmente l'inizio prove chiamiamo prove qualifiche quello che volete era lì no power no power e invece power libidine sesto posto tanta roba comunque la classifica appunto dopo i primi giri vede primo leclerc secondo vettel terzo vestate in quarto bottas quinto emilton sesto science settimo gasli ottavo album nono norris decimo ricciardo undicesimo ulkenberg dodicesimo giovinazzi tredicesimo kiat quattordicesimo perez e quindicesimo strull chi rischia sono raikkonen sedicesimo grosgian diciassettesimo magnus ten diciottesimo e naturalmente le due williams di russell e cubica veniamo alla fine del q1 quali sono purtroppo i piloti esclusi dal q2 e sono kiat sedicesimo per soli quindici millesimi quindi stroll diciassettesimo grosgian diciottesimo e rasse le cubica come al solito diciannovesimi e ventesimi inizia il q2 e a metà delle seconde qualifiche c'è almeno inizialmente leclerc al primo posto davanti ad emilton bestaffen e bottas via via tutti gli altri per ora gli esclusi sono giovinazzi undicesimo gaslido unicesimo perez tredicesimo raikkonen quattordicesimo e magnusen quindicesimo però ci sono ancora sette minuti da fare e tutto può cadere alla fine del q2 questi sono i dieci piloti qualificati primo leclerc secondo bettel terzo emilton quarto bestaffen quinto bottas sesto norris settimo albon ottavo sainz nono ricciardo e decimo ulkenberg i piloti non qualificati sono undicesimo perez dodicesimo giovinazzi tredicesimo gasli quattordicesimo raikkonen e quindicesimo magnusen e adesso i magnifici dieci si fa per dire perché naturalmente ci sono i cinque e gli altri cinque si giocano la pole position inizia il q3 e dopo il primo giro è bettel in pole position davanti alle clerche bestaffen emilton è addirittura un secondo al quarto posto con il suo compagno quinto che ha solo 36 millesimi appunto da emilton quindi vicinissime le due mercedes però lontanissime dalle due ferrari però siamo solo al primo giro ci sono ancora almeno un altro giro da fare e quindi tutto può succedere sappiamo benissimo che emilton è bravissimo nell'ultimo giro all'ultimo momento a fare il colpo del jaguaro e invece all'ultimo giro succede di tutto il primo a partire è bettel che però è arrivato quasi sul traguardo decide di andare ai boss perché si rende conto di non aver fatto un giro che migliora avrebbe migliorato la sua posizione e purtroppo per lui rimane bruciato come si suol dire beffato metteteci quello che volete dal suo compagno di squadra leclerc che si prende la pole position e da emilton che è arrivato subito dopo che si mette in mezzo alle due ferrari prendendosi si fa per dire la prima fila ma non la pole che per il terzo gran premio consecutivo grandissima libidine quei fiocchi va a charles clerc e allora adesso andiamo a vedere la classifica che però devo andarla a recuperare un attimo solo perché ho lasciato la classifica di là arrivo subito bene 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 allora andiamo a vedere perché vi dico prima la griglia dopo le qualifiche poi vi do quella effettiva perché ci sono le penalità da pagare comunque teoricamente la griglia al termine delle qualifiche vedeva in prima fila leclerc emilton in seconda vettelver staffen in terza botta salbon in quarta sainz ricciardo in quinta ulkenberg norris in sesta perez giovinazzi in settima gasliera iconen in ottava magnus enerchiat in non astrole grosgian e in decima rassele cubica ma ahimè per il povero perez si fa per dire ma soprattutto per ricciardo sono stati uccelli per diabetici perché perez perché ha cambiato la centralina si è visto dare cinque posti di penalità e quindi partirà in ottava fila quindicesimo era decimo deve scendere ricciardo per aver usato troppa potenza così dicono usato troppa potenza nel q1 viene addirittura squalificato e dovrà partire o in ultima fila o se no direttamente dal box come si suol dire vedremo domani cosa deciderà di fare però per lui che era appunto in quinta fila anzi in quarta fila ottavo libidine si trova a partire ultimo nel dover praticamente ricostruirsi la gara è vero che lui si diverte a fare i sorpassi eccetera ma a singapore non è così semplice semplice fare i sorpassi quindi ahimè ricciardo partirà ventesimo vedremo che cosa combinerà o se per cercare di recubinare combinerà qualche disastro detto questo io vi saluto vi ringrazio adesso mi appresto a vedere ahimè mi tocca anche mi tocca piacevolmente ci mancherebbe devo vedere come sono andate le qualifiche della moto gp ad aragona ciao